I bambini, qui siamo in Romania con Santa Claus che dà e consegna il suo regalo, anche se purtroppo, come ogni Natale, molti bambini sono in difficoltà economiche e c'è bisogno di solidarietà anche per questo Natale. C'è bisogno sempre, ovviamente, Monica, però ogni Natale è importante per i bambini che passino un Natale felice, ovviamente. A te, intanto. Anche perché sai quanto noi teniamo ai bambini. I bambini sono sacri, non si toccano, sono le cose che ci restano dal paradiso, come diceva Dante, insieme alle stelle e ai fiori. Allora, vi voglio presentare le persone con cui parliamo di questo Natale solidale e, insomma, di giovani, perché è molto importante parlare soprattutto oggi. Qui accanto a me c'è Valentina Bresciani, responsabile della struttura accoglienza dell'associazione Amici dei Bambini, che ringrazio, e Carlo Tedeschi della fondazione Leo Amici. Allora, inizierei proprio da lei, Tedeschi, perché, insomma, lei è l'ideatore di questo piccolo paese fuori dal mondo, che, insomma, è diventata effettivamente una realtà. Siamo sulle colline riminesi e lì si sperimentano delle nuove forme di socialità. Andiamo a vedere insieme il racconto della nostra Chiara Calero e poi ne parliamo. Grazie. Quando nel 1982 Leo Amici decise di fondare, grazie ad una colletta, qui sulle colline a sud di Rimini, la sua comunità, non c'era nulla, solo il lago, una vecchia porcilaia e un podere. Sognava una clinica, una residenza per anziani e bambini in difficoltà, un piccolo paese fuori dal mondo, appunto. Trent'anni dopo, il suo sogno è stato realizzato ed è anche più grande. Cinque nuclei familiari abitano oggi nella palazzina chiamata La Meta. Arriviamo che è l'ora del pranzo e sono pronti a mettersi a tavola tutti insieme. È un vivere una vita nell'amore verso il prossimo. Io questo lo vivo, no? Per me fare questa cosa è come essere presente tutti i giorni davanti alle persone. Una rete sociale dove la fede è un collante ma non è discriminatoria, intrecciata dai 700 volontari, un centinaio quelli che ogni giorno si alternano nelle attività. Negli anni hanno beneficiato di questo impegno anche molti bambini, quelli provenienti da Chernobyl, venivano qua a passare un periodo di vacanze. Quelli oggi in difficoltà trovano alla base due figure genitoriali che possono accompagnarli in un periodo complesso per le loro famiglie d'origine. Dopo qualche giorno si gira e mi chiama mamma e poi dopo si riprende e fa no, te lo sei la mia mamma, vorrà dire che ho due mamme. Un posto di fantasia feliniana che ha diverse sedi in tutta Italia e che forse non poteva non avere un teatro con relativa compagnia. 18 produzioni all'attivo è una missione tenere insieme il talento, la beneficenza e il business che serve a mantenere tutto questo. Gianluca era uno di quei giovani in difficoltà accolti nella comunità, è diventato primo ballerino e coreografo. Lo incontriamo in teatro dove tutto è fatto in casa, anche i costumi. È stato per me il dono più grande che potessi ricevere. Io ero un ragazzo quando avevo 18 anni che rincorreva, rincorreva a se stesso e qui attraverso Leo Amici, il fondatore di questo posto, poi Carlo Tedeschi che mi ha seguito tantissimo dopo la morte di Leo Amici, facendomi scoprire la bellezza. Chiara Kaleoska, ITG24, Rimini. Carlo Tedeschi, prima abbiamo parlato della selfite, della piazza virtuale e invece il teatro ti fa toccare, ti fa respirare il pubblico, diventa veramente qualcos'altro. Il teatro unisce, aggrega molto, anche perché di fronte al pubblico nel recitare una parte si è sicuri di quello che si sta recitando perché la si è imparata a memoria, oppure c'è stato un regista che ti ha detto entra a sinistra, entra a destra, muoviti, balla, danza, canta, eccetera. E dunque su questa sicurezza ogni ragazzo può esprimere veramente se stesso, sembra un paradosso, no? Si interpreta una parte eppure esce fuori la verità di se stessi, è questo che unisce molto interno. Io ho sempre pensato che sia terapeutico il teatro perché tira fuori sempre qualcosa, qualche aspetto di noi che magari non conosciamo fino in fondo, no? Assolutamente sì, nell'interpretare questo o quell'altro personaggio si scopre che in fin dei conti c'è una rete di valori o di disvalori tra l'altro che ci unisce profondamente. Noi nasciamo tutti con difetti e pregi, dipende poi da noi riuscire a far emergere gli uni e a soffocare gli altri. Parliamo soprattutto di giovani, ne parliamo perché è importante ripartire, lo diciamo sempre, è importante ripartire da loro. Voi, soprattutto dei bambini, dei bambini che sono vittime loro malgrado di violenza, di violenza familiare, vi state occupando in questo momento con la vostra campagna? Sì, noi abbiamo avviato appunto questa campagna di SMS solidale che è Non toccatemi la mamma proprio perché partendo dai dati delle ricerche dell'Istat si parla di 400.000 bambini che assistono alle violenze domestiche, quindi tra la mamma e il papà e di conseguenza non occorre dare a loro un senso di protezione e di accoglienza per andare un pochettino a risanare quelle che sono le fatiche che hanno vissuto. Nello specifico abbiamo delle strutture d'accoglienza dove accogliamo proprio mamme vittime di violenza con i loro figli e cerchiamo di accoglierle proteggendole e andando a ristabilire un pochettino quello che è un rapporto sano tra la mamma e il bambino, andando proprio a lavorare su quello che è il senso del maltrattamento e della violenza che hanno subito. Anche perché la cosa più difficile, lo stiamo raccontando molto in questi mesi, è capire che si sta subendo una violenza. Sì, si fa fatica, il passo più difficile è proprio quello, no? Cioè riconoscere che questa relazione ha degli atteggiamenti, dei comportamenti che non sono sani, non sentirsi in colpa e non sentirsi colpevoli di quello che uno sta subendo e allo stesso tempo poi chiedere aiuto e agire. In questo modo iniziando a chiedere aiuto si spezza un po' questa catena di maltrattamenti, di violenza e la donna insieme ai suoi figli riesce a riprendersi in mano la vita, ricostruirsela. Ancora di più nei confronti quando c'è un minore in questi casi, lo chiedo a entrambi perché ovviamente quando in una famiglia c'è violenza e c'è un bambino che assiste a quella violenza c'è tutto un percorso psicologico che questo bambino deve fare e soprattutto magari c'è anche la reticenza della madre a denunciare anche perché allontana volente o nolente il figlio dal padre. Sì, in alcuni casi sì, c'è bisogno proprio di mettere distanza tra il marito e la moglie. In realtà il papà in alcuni casi ovviamente riesce a mantenere dei contatti con i propri bambini in un contesto di protezione, i bambini vengono aiutati, vengono preparati, vengono seguiti nel mantenere i rapporti con il papà perché il papà rimane papà. Sicuramente è un lavoro impegnativo perché si deve andare a ristabilire un pochettino anche un concetto legato al comportamento giusto o sbagliato che i bambini hanno visto perché una delle conseguenze che i bambini hanno nel momento in cui sono vittime di violenza assistita è quella di fare proprio quegli atteggiamenti, quei comportamenti che sono stati sbagliati. Quindi occorre proprio andare a spezzare un po' questa catena, andare a spiegare che quel comportamento non è giusto e provare a dare dei nomi diversi a questi atteggiamenti e a spiegare in che modo uno può tirare fuori anche la rabbia e il dolore che ha dentro. Si può fare infatti in teatro, questa è assolutamente la terapia di cui parlavamo, no? Questo è importantissimo, lasciare che liberamente esprimano la loro rabbia, è importante perché altrimenti resta, represta dentro di loro, tra l'altro è un ricettacolo di tanti virus e tante malattie, la rabbia in se stessa attira proprio il negativo. L'importante è appunto assecondare le loro espressioni, riuscire a farli esprimere e non mortificarli nel dire no, questo non si fa, questa reazione è brutta, questa reazione è cattiva, assolutamente no. Lasciarli liberi, anzi partecipare con loro a queste loro reazioni negative. Ecco, abbiamo parlato tanto di quella che è insomma un po' la fotografia della nostra Italia, si fanno sempre meno bambini, è un'Italia sempre più vecchia. Se la nostra è Roberta Poggi... Che belli auguri, no? Veramente, c'è sempre spazio per tutti, anzi più si è meglio è. Io vi devo ringraziare, siamo davvero in chiusura a Carlo Tedeschi, Fondazione Lea Amici, Valentina Bresciani, ricordiamo il numero verde fino al 23 dicembre? Sì, l'SMS solitare, fino al 23, il 45567. Benissimo, per aiutare gli amici dei bambini. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie per essere stati con noi, noi ci fermiamo però tra pochissimo ritorniamo, vi parleremo di amore.